Eccoci qua Bada, siamo a commentare una sconfitta, una sconfitta netta e probabilmente anche meritata contro la Lube, contro Treia. C'è qualcosa che oggi non ha funzionato ovviamente nella nostra metà campo e probabilmente hanno inciso, lo chiedo a te, le fatiche di Champions e forse anche quel primo set perso in volata? Hai detto che c'era qualcosa che non era buono oggi, ma c'erano molte cose che non erano buone oggi. Sì, perché giochiamo così? Sì, perché queste persone che venivano oggi in Sport Hall, perché aspettavano probabilmente di giochere meglio, ma questo è quello che abbiamo fatto oggi. Dobbiamo pensare per il futuro, perché ora non possiamo cambiare il passato e non so qual è la ragione. Oggi ci sono state più cose che non hanno funzionato purtroppo e ciò che mi dispiace di più è aver probabilmente deluso tutti gli spettatori che erano qui e che si aspettavano una Sir diversa. Non so dirti esattamente cosa non ha funzionato, però questo purtroppo è il risultato. Senti Bada, adesso ovviamente bisogna concentrarsi sulla Superlega. Verona abbiamo visto, anche lei ha perso quest'oggi, quindi le distanze dal quarto posto rimangono immutate. Sono rimaste tre partite alla fine della stagione regolare, bisogna cercare di fare il massimo per conquistare almeno questo quarto posto. Se mi chiede, sicuramente dovremmo essere forti, perché Verona ha più di noi, bisogna vincere tutte le matche contro il team che non sono così forti. Ma, ok, vogliamo la Sir, che vincere contro le stagioni forti, abbiamo mostrato da Barato che possiamo giocare contro le migliori stagioni del mondo. Qui avevamo la possibilità, magari stiamo ancora con i nostri fatti in questo match, che per noi era la maggior parte della nostra vita. e, ok, come ho detto, dovremmo essere quarti, perché Verona ha una partita in più rispetto a noi. Come ho detto prima, dobbiamo guardare al futuro, perché abbiamo dimostrato anche nella Champions di poter giocare e vincere, e fare un bel gioco contro le squadre più forti a livello internazionale, quindi si pensa al futuro. e si volta a pagina. Senti, in ultima cosa, chiudiamo con un sorriso, con i due amici, Stankovic e Podraskanin, non si riesce mai a vincere. Noi, in ultima settimana stavamo combattere, stavamo in una finale, ma stavamo in una finale, ma stavamo in una finale, due volte perderemo il primo match 3-1, ma oggi 3-0. È difficile da giocare contro loro, sono davvero buoni, sono davvero buoni. perché sono così lunghi in Lube, in un'ottima grande club. Io ancora credo in questo team, io ancora credo che possiamo fare cose buone. Ora la parte più importante della season è il comune. Potremmo non possiamo essere così grandi optimisti, ma proviamo a essere optimisti. e la ultima cosa è che magari ci vediamo in una finale, anche se oggi non giocava così bene. Beh, è nominata una coppia di centrali conosciute a livello internazionale e hanno fatto un buonissimo gioco oggi, come ho detto è difficile forse essere ottimisti dopo una partita del genere, ma dobbiamo provarci perché abbiamo tutte le possibilità per farlo. Allora in bocca al lupo, bada.